Enzo Ghinazzi, Narte Pupo, ti ritroviamo a Portogruaro, una bella giornata questa, anche di ripartenza, anche di cultura, anche di abbigliamento, di moda. Il nome di Portogruaro che adesso comincia anche ad associarsi a quello di Pupo e questo è un bel messaggio. Sì, io effettivamente con il Veneto e con tutte le tre Venezie, con questa area metropolitana di Venezia ho rapporti che risalgono molti anni fa perché nel 75 cominciai la mia carriera di cantante in una manifestazione che si chiamava Canta Veneto che era itinerante, girava tutto il Veneto e passammo anche da qua. A Caorle, a Portogruaro, a Venezia, in tutta questa zona io ho avuto storie, vicende non solo professionali ma anche umane che oggi riprendono vigore e si riallacciano ad una realtà nuova che è quella appunto di partecipare con Massimo Vello al rilancio mediatico e non solo di queste zone, soprattutto di Portogruaro. Sarà una partita della solidarietà il prossimo anno che ti vede anche un po' protagonista come organizzatore? Sì, perché io sono il Montio di Mario Rosano, il fondatore insieme a qualche mio collega illustre della Nazionale Cantanti e abbiamo programmato una partita qui a Portogruaro che sarà in qualche modo come finalità devoluta a quei progetti che noi metteremo su, speriamo di poter concretizzare in breve tempo, che sono quelli anche di costruire una casa degli artisti qua a Portogruaro e sarà parte di uno degli eventi che stiamo cercando di creare per appunto rilanciare questa città e anche le eccellenze di questa città. Hai tenuto compagnia a gran parte degli italiani durante il Covid con il Grande Fratello, che esperienza è stata, cosa ti ha lasciato e insomma anche qual è il messaggio che secondo te è passato? Per me partecipare come opinionista al Grande Fratello è stata una grande esperienza non solo professionale ma umana, perché non avevo mai partecipato a un reality in questa veste, a parte io non avevo mai partecipato a nessun reality anche se mi avevano invitato sempre ma non era la mia ambizione primaria professionalmente parlando, però ho scoperto un mondo a volte anche un po' controverso, a volte anche un po' fragile, un po' anche sterile, però che ha un senso, quindi ho lavorato in un periodo in cui molti miei colleghi non hanno lavorato, quindi una grande fortuna, ho potuto fare un'esperienza nuova accanto a Alfonso Signorini che è un professionista di altissimo livello, un uomo di grandissima cultura e soprattutto ho potuto, ripeto, dare valore a quelle che io prima consideravo delle miserie che costringevano le persone a partecipare a questo genere di programmi televisivi, quindi li ho rivalutati, sono state due esperienze importanti, ho già dato una terza, non mi serve in questo senso qui e quindi farò altre cose in futuro. Grazie.